Oggi si festeggia la donna non per una buona sorte, ma per la cattiva sorte delle donne che per difendere il lavoro, la fabbrica, le ha truette la morte. Riguardano quel tragico evento dei primi anni del Novecento, le prime parole che Franca Mercantini ha scelto per la sua poesia dedicata alla festa della donna. Un regalo in dialetto pesarese che l'autrice 87enne, apprezzatissima dai pesaresi, ha voluto donare alla sua città, nel quale racconta dei tempi difficili con i quali le donne, compresa le stesse, hanno dovuto convivere nella loro esistenza per poter sopravvivere. Le parole per l'8 marzo, che hanno fatto vibrare i presenti nella sala del Consiglio Comunale, sono frutto di un tributo concessole dall'amministrazione e dalla consigliera regionale Micaela Vitri, per aver rappresentato per la sua città, ma anche per l'intera regione, un simbolo di emancipazione e di libertà. È un riconoscimento che abbiamo voluto in questa giornata significativa e simbolica dare ad una donna che rappresenta non solo Pesaro, ma io vorrei dire un po' anche tutte le marche, perché Franca Mercantini è un modello di emancipazione, per questo ci sembra un simbolo di tutte le donne, non solo pesaresi, ma anche marchigiane, voglio dire, e per questo noi gli abbiamo chiesto anche di dedicare una poesia a tutte le donne. Mi auguro che questa poesia poi possa essere diffusa e girare, perché sono convinta che rimarrà un pezzo di storia del nostro territorio, visto che si tratta di un testo bellissimo ed è una versione pesarese del motto Donna Vita Libertà, che mi piace davvero oggi augurare a tutte le donne. Oggi ci sembrava un giusto riconoscimento per delle donne simbolo che la città può vantare, soprattutto per questa sua storia personale, che è molto particolare, ma che ne fa anche un esempio dal certo punto di vista. Nella sua poesia Mercantini rivede la storia della sua famiglia, di suo padre e di sua madre, ritratta piangente per la lontananza del marito, sovversivo in tempo di guerra e morto quando lei aveva solo 16 anni. Franca nella sua lunga vita ha riscoperto anche la rinascita, che all'età di 50 anni l'ha allontanata da quella violenza che per 30 anni di matrimonio l'ha accompagnata. L'amore per i tre figli e il desiderio di una famiglia normale l'ha portata a sopportare l'insopportabile, fino a quando forza, coraggio e amore di chi le voleva bene l'ha portata a separarsi e da lì è tornata a vivere. Ed è proprio questa continua speranza che riversa nelle donne moderne e nella parità di genere che le dà la forza di andare avanti ogni giorno, valori che riempiono di significato le parole usate per concludere la sua nuova poesia. Adesso molti porti si spalanchano e ma la modernità a sempre arriva, però è n'è tutto fatto, eh? Donna, state attenti ma la zampetta del gatto e non fate corrompa da falsi promessi e vanità, ma lotta per la vita e la tua libertà. Grazie a tutti.